C'era uno che aveva due mani e le usava di modi più strani Per esempio sapeva descrivere la vita di nuovi lontani Era un uomo di forza sicura, molto alto per la sua statura Soprattutto sapeva... Al via ieri sera a Brindisi la prima edizione del festival Museac, musica vista mare organizzato dal comune di Brindisi grazie al sostegno della regione Puglia nell'ambito dell'accordo di cooperazione in essere tra il Teatro Pubblico Pugliese e Aret Puglia Promozione Sul palco dell'ex capannone Monte Catini si è esibito Daniele Silvestri Oltre due ore di concerto attraverso il quale Silvestri ha ripercorso i tratti salienti della sua carriera Questa sera è il turno di Max Gazet e domenica Carmen Consoli La sera è il turno di Max Giacet e dal maestrale La si tratta che ci spingano a dirà di questa maniera Grazie a tutti